Il suono delle campane segna la festa della comunità brindisina per il riconoscimento delle virtù eroiche del servo di Dio, ora venerabile Matteo Farina. Tutte le parrocchie di Brindisi infatti hanno fatto risuonare contemporaneamente i rintocchi delle campane in un suono antico che ha virtualmente unito tutta la comunità. Il venerabile servo di Dio Matteo Farina continua questo percorso bello e anche, devo dire, veloce verso la canonizzazione, ma il riconoscimento della Chiesa per noi è importantissimo. Abbiamo però nel cuore la certezza appunto che la vita di Matteo è stata una vita bella, spesa nella gioia, nella verità e cercando appunto di portare tutti a Cristo che dà senso alla vita. Un significato particolare di gioia in questo momento difficile con Matteo Farina che ha vissuto la sofferenza della malattia e che rende quindi ancora più importante il momento storico in cui questo riconoscimento è avvenuto. Lui è passato da questa sofferenza ma ne è passato proprio da cristiano, offrendo la sua sofferenza e ancora di più vivendo quella sofferenza come motivo di conversione, sua personale ma anche di tante persone, quella sua testimonianza pur in quella situazione di difficoltà deve essere per noi anche opportunità di saper vivere questo momento e di uscirne con la grazia di Dio anche fortificati da questo momento così particolare nella gioia del Signore risorto.